Fino a sabato l'Italia sarà interessata marginalmente da una soccatura atlantica che fa fluire correnti sud-occidentali umide a tratti instabili sulle Alpi. Domenica un temporaneo promontorio tecicronico manterrà tempo più stabile. Tra lunedì e martedì dovrebbe giungere un altro fronte atlantico. Nelle prossime ore fino a sabato mattina saranno ancora possibili rovesci e temporali sparsi sulla nostra regione, forse anche localmente forti. In mattinata variabilità con vento di bora sulla costa che si attenerà poi nelle ore centrali. Nel pomeriggio di nuovo un po' di instabilità con qualche rovescio o qualche temporale più probabile sulla fascia prealpina e sulla pianura. Temperature in leggera diminuzione, si sentirà di meno lafa per il tratto del vento di bora. Per domenica invece bel tempo, cielo essenzialmente sereno su pianura e costa, sereno in montagna al mattino con un po' di variabilità al pomeriggio per della nuvolosità locale. Al mattino soffrirà ancora un po' di borino sulla costa e poi nel pomeriggio brezza. Le temperature risaliranno di nuovo a valori estivi sui 32-33 gradi in pianura, ma la mancanza di umidità non farà sentire lafa. Lunedì mattina ancora bel tempo, oppure probabilmente un peggioramento a partire dalla serata per il sopraggiungere del fronte atlantico che ci interesserà martedì. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanotto. Grazie.